Oh, che splendida folla, Harry! Libertà universale! Non avevo mai visto una folla così imponente! Già, questo è il gran giorno! Su, Mary, vai! Coraggio! Vai, tu, sali sul caletto! Aspetta! Come avevo promesso, signor Hunter, il raduno più grande mai tenuto a Manchester! Col vento da questa direzione, sarebbe stato meglio posizionare il palco nell'angolo più lontano! Mi è stato assicurato che questa era la posizione migliore! Non ha importanza! L'ho affrontato di peggio! Certo, certo! Che cosa pensate di Manchester? Oh, la trovo molto bella! Signora Saxton sarà il primo di molti viaggi a nord, nell'interesse della riforma! Signore! Edward Baines, Leeds Mercury! Oh, signor Baines! Prego, salite! Siete il benvenuto! Grazie, signore! Quale giornale? Di Leeds Mercury! Di Bassa Lega! John Tyus, del Times di Londra! Siete venuto fin da Londra! Voi chi siete, signore? Susanna Saxton, della Manchester Female Reform Society! Spero che ci descriverà positivamente, signor Tyus! Signor Knight! Ah, il signor Smith! Ah, signor Saxton! Benvenuto, Smith! Signor Rowe! Mi avevano detto che non sareste riuscito a venire! Oh, non sarei mancato per nulla al mondo, signore! Guardate che bella folla! S negative! Signore, arrivo! Grazie a tutti.